Da oltre 30 anni attendono il cartello con il nome della via, i residenti di Metauriglia chiedono al comune l'installazione della segnaletica. A fine giugno la darsena borghese aprirà al pubblico, ad annunciarlo, l'assessore al decoro urbano, Barbara Brunori. A Fano non si ferma la macchina della solidarietà per la popolazione ucraina. Un'altra azienda del territorio ha donato bancali di cibo pronti per essere distribuiti alle famiglie del territorio. 40 studenti del liceo linguistico di Fano ripuliscono la spiaggia da rifiuti durante le ore di educazione civica, ad aiutarli i volontari di Puliamo Fano. Salgono a 17 le bandiere blu che sventoleranno nelle spiagge marchigiane il vessillo, confermato anche a Mondolfo, Fano e Pesaro. A Bottega di Vallefoglia inaugurata la 43esima mostra del libro per ragazzi. Un cordiale saluto e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla notizia sul canale 19 di Fano TV. Apriamo questa edizione con le vostre segnalazioni. Andiamo a Metauriglia dove alcuni residenti chiedono da anni al comune il nome della propria via che ad oggi è senza cartello stradale e non viene neanche riportata dai navigatori. Una situazione che ha creato non poche difficoltà anche per i mezzi di soccorso. A Metauriglia di Fano c'è una via il cui nome è un incognito. Ci troviamo all'altezza della chiesa davanti al circolo Arci e più precisamente a fianco di un noto ristorante del posto. Alcuni residenti infatti ci hanno segnalato la mancanza del segnale con nome in entrambe le entrate del tratto stradale. A farsi da portavoce il signor Alberino Marco Antonini di 80 anni una vita passata a fare il muratore. Lui che in questo quartiere abita da più di 30 anni non ha mai visto il nome di questa strada. Il tratto che conta circa 40 nuclei familiari collega strada nazionale adriatica con strada comunale Ponte Alto ma la curiosità è che non viene neanche indicato dal più grande servizio internet geografico o dai semplici navigatori. Non è scritto nemmeno nel navigatore questa via, non so io. Quindi cosa chiedete al comune? Chiediamo una tabella per la via e poi tre punti luce qua. Questa situazione rende ancora più difficile per i mezzi e le emergenze di soccorso la ricerca di questo luogo. Una signora è già disceduta però stava molto male chiamano i cosi, la Croce Rossa la Croce Rossa è arrivata giù in fondo e non sa dove andare non sono casi da sorvolare in queste condizioni oggi giorno. Quindi voi siete dovuti arrivare in fondo alla via? Sì, in fondo alla via dicendo che l'ammalato stava in questa zona. Stessa situazione anche con i vigili del fuoco? Con i vigili del fuoco, tre mesi fa ha preso fuoco una cappa del camino che poi quelle non si sa come sono fatte non riusciva a spegnere, ha chiamato i pompieri i pompieri sono dovuti venire a prendere io qui dicendo che in cima c'è un'altra via che andava giù e dopo l'hanno trovato ma è così siamo abbandonati da tutto. Facciamo un altro appello al comune di mettere su il famoso cartello? Noi chiediamo di mettere su questi due cartelli e poi se c'è tre punti luce. Come ci spiega un altro residente la situazione è stata fatta presente anche al sindaco e all'assessore ma nulla si è mosso. Parlando direttamente col sindaco, con l'assessore che noi abbiamo il circolo qua, sono venuto a pranzo io ho fatto vedere proprio la strada mi hanno detto più di una volta che non è possibile è tutto un giro che non si riesce a capire ma se non lo capiscono a che serve? A mettere una tabella? No? Lassù Monteschiantello? Strade? Sperdute c'è la tabella? Niente. Ormai è persa la speranza, capito? perché arrivato al sindaco, arrivato all'assessore proprio dei lavori non c'è niente da fare allora a questo punto invece di alzarla la passiamo a voce noi. Inoltre la parte finale di questa strada risulta pericolosa e sconnessa a causa delle numerose buche. Sono abituato ad andare in bicicletta per muovermi un po' però non posso uscire con la bici con queste buche e se vado a rischio di cadere per terra di andare al Padre Terra non mica la storia. Da quanto tempo che è così? È sempre così perché qui non essendo la via non puoi andare nemmeno in comune e dire che quella via ci sono buche e non vengono mai a ratoparle. La Guardia di Finanza di Rimini ha smantellato un sistema di vendita piramidale di integratori alimentari basato sul reclutamento di nuovi clienti venditori in violazione della normativa italiana. In totale sono 13 le persone indagate tra cui due cittadini di San Marino un romano un foggiano e nove residenti tra Romagna e Marche a Rimini, Pesaro e Cesena. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro di immobili e di disponibilità finanziarie per oltre 7 milioni di euro. E continuiamo con le vostre segnalazioni e ci spostiamo in via Flaminia più esattamente sopra il ponte che scavalca l'autostrada A14 nella zona di Centinarola dove una nostra reporter ci ha fatto notare che il camminamento a lato della strada ha un ingresso ma non ha un'uscita. Infatti come vedete dalle immagini questo passaggio ad un certo punto finisce in un campo senza possibilità di raggiungere la strada se non scavalcando il guardrail o tornando indietro è un passaggio sicuro per restare lontani dalle auto ci ha scritto la segnalatrice ma che in questa situazione ha ben poco di utile. Rimaniamo a Fano per parlare della darsena borghese perché l'assessore Brunori ha comunicato lo sblocco del cantiere dopo che i lavori si erano fermati a causa della morte del titolare dell'impresa. Conclusione dell'opera per la fine di giugno. Dopo la travagliata situazione sul fermo del cantiere durata per diversi mesi con il conseguente rinvio delle date di apertura al pubblico questa mattina l'assessore Brunori annuncia la ripresa degli interventi e la successiva data di scadenza dei lavori fissata per la fine di giugno. Finalmente ripartono i lavori mi sento di dire finalmente perché questa è una vicenda complessa che viene dallo scorso anno nel mezzo c'è stato purtroppo un decesso del titolare e malgrado questo siamo riusciti oggi ad andare a risoluzione diciamo del contratto con la vecchia ditta che si doveva ricostituire ma per problemi di ritardi oggi siamo arriveremo troppo lunghi per cui continueremo i lavori con una delle ditte che abbiamo all'interno del contratto quadro che è già pronta si tratta di lavori migliorie che appunto avverranno in pochissimo tempo. La nuova ditta appaltatrice avrà il compito di installare le panchine in legno nella parte verde concludere la passeggiata romantica con una nuova pavimentazione e nuove sedute in marmo e infine la riqualificazione del verde della scarpata fino al ponte ferroviario una buona notizia sia per l'intera città ma anche per l'ANMI l'associazione nazionale dei marinai d'Italia che potranno di nuovo organizzare le loro iniziative in uno dei luoghi più caratteristici e storici di Fano. Uno degli elementi che sicuramente andrà a caratterizzare questo luogo è la passeggiata qui alle mie spalle proprio che favorirà l'accesso alle persone con disabilità ma anche un'illuminazione scenografica che scopriremo proprio in fase inaugurale che andrà a caratterizzare questo luogo ancora di più rispetto un po' a quelle che sono le versatilità della nostra città. Ci siamo entro fine giugno vorremmo davvero riconsegnare alla città questo posto straordinario. Torniamo a parlare del servizio trasmesso ieri sera sulle querele presentate da 50 insegnanti contro il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Filisetti per una circolare relativa al Green Pass perché abbiamo mostrato delle immagini di repertorio del liceo Torelli che dobbiamo precisare non si riferiscono all'oggetto del servizio infatti sia i docenti sia l'istituto sono estranei e l'argomento trattato e ai provvedimenti in atto contro il dirigente La Regione Marche ha destinato 7 milioni di euro a 5 importanti interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico lo annuncia l'assessore alla difesa del suolo Stefano Aguzzi in particolare per la provincia di Pesaro e Urbino rientrano l'intervento sul torrente Taccone nei comuni di Tavuglia Montellabate e Vallefoglia per un importo di 900 mila euro e quello nel comune di Urbino finalizzato alla sistemazione del tratto terminale del torrente Apsa per 260 mila euro A Fano non si ferma la macchina della solidarietà per la popolazione ucraina un'altra azienda del nostro territorio ha donato diversi bancali di cibo che ora sono nella sede della protezione civile pronti per essere distribuiti alle famiglie del territorio che ospitano i rifugiati in servizio di Simona Zonghetti sono saliti a 302 gli ucraini ospitati nei comuni dell'ambito territoriale sociale 6 a Fano in particolare alloggiano 228 profughi di cui 116 minori per un totale di 95 nuclei familiari e per loro così come per i connazionali rimassi in Ucraina da mesi ormai tanti privati associazioni e istituzioni mettono in campo azioni di solidarietà dall'accoglienza alle attività ludiche e culturali fino alla raccolta di beni di prima necessità a questa lunga lista di benefattori si è aggiunta anche l'azienda Nucco Promo che ha contattato il CB Club Mattei l'associazione di volontariato di protezione civile abbiamo concordato che forse un grosso acquisto di pasta senza avere delle cose un po' qua un po' là un grosso acquisto di pasta legumi olio pomodoro tonno e altre cose del genere a lunga conservazione era forse la soluzione migliore da lì a poche settimane ci ha chiamato appunto la Copromo e ci ha dato una quantità importante quasi 5 o 6 bancali di prodotti alimentari Qual è la volontà dell'azienda adesso? La volontà dell'azienda li ha messi a disposizione della protezione civile con una preghiera che andassero gli ucraini la raccolta appunto per questo alle famiglie soprattutto in aiuto agli ucraini sì ma a quelle famiglie che in particolare ospitano gli ucraini che cominciano ad avere delle difficoltà in pratica nell'andare avanti perché sono spesi giornaliere I generi alimentari sistemati nei magazzini della protezione civile verranno messi a disposizione dell'ambito che a sua volta individuerà le famiglie per la successiva distribuzione Chi ha il dono chi vuole donare non smette mai di donare quindi da noi arrivano comunque altre cose tipo pannolini dentifrici tutte cose per la casa che noi abbiamo e in questo caso ad esempio 15 giorni fa abbiamo chiamato Yuri perché lui ha le sue famiglie che conosce bene lo richiameremo nei prossimi giorni perché abbiamo un altro carico anche se ci sono prodotti alimentari all'interno ma ci sono anche tante altre piccole cose sapone altre piccole cose che la gente acquista per se stessa ne acquista uno due in più poi ce lo farei capitare a ringraziare l'azienda e tutti coloro che in questo periodo si sono messi a disposizione del popolo ucraino e anche il presidente dell'ambito e assessore al welfare Dimitri Tinti ci organizzeremo con la nostra filiera noi abbiamo già una rete già strutturata su tutto il territorio dell'ambito che parte da Fano che si chiama il progetto la rete Passamano e quindi cercheremo chiaramente con le famiglie che abbiamo in carico e comunque monitoriamo di poter davvero fornire a tutti dei beni alimentari a lunga conservazione che chiaramente in questo periodo dopo diversi mesi sono più che utili quindi davvero grazie ed è ancora una volta la dimostrazione di una comunità davvero solidale e accogliente questa mattina al centro linguistico dell'università di Urbino ha preso il via un corso gratuito di lingua italiana per 17 studenti ucraini l'Ateneo ha infatti assegnato 17 borse di studio comprensive di vitto e alloggio a un gruppo di giovani in età compresa tra i 17 e i 24 anni provenienti dall'università di Kiev è tornata al suo posto dove era stata posta da più di mezzo secolo in un'edicola votiva della frazione di Colle Luce a San Severino Marche nella provincia di Macerata la statuetta della Vergine Maria trafugata da ignotilo scorso Natale il comitato della frazione si è adoperato per la sostituzione della statuetta l'edicola votiva è spesso destinazione scelta dagli abitanti del posto per una preghiera e un breve momento di raccoglimento la nuova statuetta ha più o meno le stesse dimensioni di quella trafugata ed è stata donata dai fedeli che tenevano molto a questa figura a rito è intervenuto padre Aurelio dei frati Cappuccini per una bendizione e un breve momento di preghiera parliamo di ambiente perché 40 studenti del liceo linguistico di Fano durante le ore di educazione civica hanno chiesto ai loro insegnanti di poter ripulire le spiagge dai rifiuti ad aiutarli i volontari di Puliamo Fano vediamo il servizio hanno raccolto reti di plastica cassette di polistirolo e cicche di sigarette giornata da premiare quella per i 40 ragazzi dell'istituto linguistico di Fano che nella mattinata di sabato scorso muniti di guanti e sacchi alla mano hanno raccolto i rifiuti abbandonati dagli incivili e quelli portati dalle mareggiate del mare lungo tutta la spiaggia che va dall'Arzilla fino a Gimarra ad affiancarli il gruppo di volontari di Puliamo Fano che ogni settimana organizza incontri per pulire la città dai rifiuti abbiamo accolto con molto piacere questa iniziativa del liceo che ci ha contattato e l'abbiamo accolto con entusiasmo perché vedere 45 giovani diciamo chiedono di loro spontanea volontà di dedicare una giornata all'ambiente alla pulizia delle spiagge ci fa molto piacere dunque vuol dire che probabilmente ma anche a livello anche sovranazionale anche sovralocale dei messaggi stanno arrivando e i giovani i ragazzi lo stanno raccogliendo questo chiaramente ci fa ben sperare per il futuro insomma purtroppo la gente rispettosa del senso civico lascia pur essendo aset che li viene a raccogliere a casa li buttano il campo di aviazione è diventato un macello il fiume lo stesso spesso troviamo cose cose importanti l'ultima volta una cucina economica quella gas cioè una volta che la carichi nel camioncino per portarla al fiume portala giù all'aset te la smaltiscono gratuitamente però la gente è così non capiamo il perché però è così durante le ore di educazione civica le due classi partecipanti hanno espresso il desiderio di provare su campo questa esperienza chiedendo appunto di svolgere quest'azione di volontariato ormai nelle scuole superiori noi facciamo ore di educazione civica dove parliamo di tanti problemi che ci possono essere anche a livello ambientale in queste classi del secondo liceo linguistico della Nofi Appolloni abbiamo parlato del garbage patch e dei problemi dei rifiuti che si trovano nel mare e i ragazzi hanno voluto loro stessi fare questa iniziativa di volontariato per pulire le spiagge locali il nostro dirigente John B è stato molto contento di questa iniziativa e ci ha dato subito il suo permesso di poterlo fare durante le ore di scuola perché stamattina sarebbero stati in classe i ragazzi entusiasti gli studenti che in tutto il tratto hanno raccolto ben 111,5 kg di rifiuti suddivisi in 77,5 kg di plastica 29 di indifferenziato 4 di vetro e 1 kg tra ferro e alluminio l'intero raccolto è stato poi smaltito correttamente grazie alla collaborazione con Aset questa è un'iniziativa pensata da noi studenti appunto di venire a raccogliere l'immondizia qua nelle spiagge perché comunque è bello dare anche una mano al paese e alla raccolta dei rifiuti che sono sempre in aumento nelle spiagge e non solo abbiamo avuto l'idea di fare questa iniziativa anche per fare qualcosa di interessante che è un problema che riguarda molto il mondo d'oggi e siamo felici di essere venuti qua e un po' straniti dalla schifezza del mondo sono rimasta contenta da questa esperienza secondo me dovrebbero anche più istituti anche più classi del nostro istituto per strada sacchetto e salgono a 17 le bandiere blu una più dello scorso anno assegnate per il 2022 alla regione Marche l'importante riconoscimento dedicato alle acque di qualità è stato conferito dalla FE la Fondazione per l'Educazione Ambientale la grande novità è rappresentata da Porto Recanati che torna ad essere premiata otto anni dopo l'ultima volta il vessillo è stato confermato a Mondolfo a Pesaro Sottomonte Ponente Levante e a Fano per Torrete e Sassogna Nord a Bottega di Vallefoglia è stata inaugurata la mostra del libro per ragazzi la rassegna in programma fino al 14 di maggio arriva la sua 43esima edizione ed è dedicata allo storico scrittore Gianni Rodari è stata la palestra Sesto On the Day a Bottega di Vallefoglia a fare da cornice alla 43esima mostra del libro per ragazzi l'evento che ha come scopo quello di stimolare la lettura quest'anno si ripropone con un ricco programma dedicato ai bambini alle famiglie e alle scuole dopo due anni di stop imposti dal covid sabato scorso è stato inaugurato questo importante appuntamento in programma fino al 14 maggio filo conduttore di questa edizione uno degli scrittori per l'infanzia più apprezzati in Italia che con le sue storie favole poesie e filastrocche ha appassionato e avvicinato alla lettura milioni di bambini stiamo parlando di Gianni Rodari abbiamo chiesto alle città di peso di Urbino alla regione Marche di farla diventare come nei fatti già è la manifestazione regionale provinciale e perché no del centro Italia per essere presente alla mostra del libro di Torino il prossimo anno e far sì che ci sia un coinvolgimento non più solo dei tablet dei telefonini dei bambini ma le scuole e le famiglie ritornare a leggere il libro ad impegnarci a far lavorare una fantasia dei bambini che è fortemente bloccata dalle televisioni da tutti questi strumenti delle nuove tecnologie che allontanano dalla vita sociale normale il tema Rodari insomma la fantasia di questo illustratore la conoscenza tutte le famiglie tutti che hanno dei ragazzini insomma conoscono questo personaggio e quindi abbiamo sviluppato intorno a lui questa iniziativa che dire il manifesto ringrazio Simone Mulastani che ha realizzato un manifesto molto colorato con un tema importante quello della pace la rassegna vede al mattino uno spazio dedicato alle visite scolastiche con diversi laboratori didattici per stimolare la mente dei ragazzi mentre al pomeriggio l'apertura al pubblico è dalle ore 16 alle ore 19 nel nostro territorio abbiamo l'istituto comprensivo Pian del Bruscole l'istituto comprensivo Giovanni Paolo II e poi la collaborazione che va avanti da decenni con i licei artistici quindi il liceo artistico Mengaroni di Pesaro e la scuola del libro di Urbino all'interno della mostra troviamo opere degli istituti ma anche opere realizzate dai più piccolini del nostro territorio dalle scuole e dagli insegnanti che si prestano a questa mostra con tanta passione i laboratori verranno gestiti non solo dagli insegnanti degli istituti degli licei artistici ma anche da associazioni del territorio che quest'anno abbiamo voluto diciamo coinvolgere in questa iniziativa il programma completo con tutte le attività didattiche è visibile sulla pagina facebook dell'evento già questo colore che si nota subito all'ingresso dà questa sensazione di gioia poi scoprendo il tema della mostra Rodari la tematica della fantasia ci porta comunque a cercare di scordarci un po' i momenti bui che abbiamo passato in questo ultimo periodo ecco quindi questa settimana che ci aspetta insomma sarà l'insegna sicuramente del divertimento rincontrare tanti ragazzi che verranno in visita al mattino che sono i ragazzi delle scuole locali accogliere il pubblico al pomeriggio insomma sarà una vera gioia grande partecipazione domenica scorsa per la ricorrenza della festa della Madonna della Colonna a Tre Ponti di Fano molti fedeli oltre ad aver preso parte alla processione e la Santa Messa presieduta da Monsignor Ugo Ughi da Don Luigi Spallacci e il parroco di Sant'Orso Don Giuseppe Marini hanno assistito anche all'intitolazione del parco adiacente alla chiesa in memoria di Fabio Uguccioni scomparso lo scorso anno che come si legge sulla pietra posizionata nell'area verde era un uomo semplice dal cuore grande amante della politica e della sua città alla cerimonia hanno partecipato diversi amministratori locali e regionali e vi ricordo che lunedì prossimo l'ospite di Primo Cittadino sarà il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi subito dopo di noi le previsioni del tempo e uno speciale dedicato alla quarantatesima mostra del libro per ragazzi che si è svolta a Bottega di Vallefoglia per questa edizione è tutto l'appuntamento con l'informazione è per domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani con Massimo Foghetti grazie per averci seguito e arrivederci Grazie